Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Ciao a tutti, eccoci qua Oggi video del terzo pacchetto di Pokemon No, il terzo pacchetto in teoria Il terzo episodio dei Pokemon Il terzo episodio, insomma, la terza seria Il terzo di tutto, ce l'abbiamo fatta Eccoli qua, ci mancavano solamente loro? Quindi io direi procediamo allo spacchettamento Però, iscriviti al canale Lasciate un bel mi piace Cliccate a cappare per non perdere i prossimi video E niente, andiamo, procediamo Oh sì, certo, scusa, mi stai voli fare tutto tempo, perdonami Ecco, fatto Allora Ok Carta grande mia, basta Poi di nuovo i codici per il Go Amore Ho fame Hai fame? Sì E aspetta, adesso Manda, facciamo questo video E manda Vuoi fare una merendina? Vuoi fare una merendina? No Adesso cucino, va bene Posso fare questo video? Allora Questa è la carta Si può mangiarlo quello? Uno però Allora Questa è la carta grande Con la carta piccola Le V E dentro ci sono quattro pacchetti Le V Grande Grande E piscina Questo è il codice Sono tutti uguali i pacchetti E poi c'è questo Com'è, buono? Questo l'ha fatto vedere? No Codice di re-pacchiamo Ah, come Quell'altro Molto bene Ok Procediamo Vuoi aprire i due pacchetti? Ma è tanto di napolo Sempre solo uno Ok No, perché è rinassante Questo è il codice Ok, però aspetta Che io non vedo bene Scusate, eh Ma ci sta Un minimo di terremoto Ma proprio minimo 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 Ok Vediamo Vediamo se così vedo Vedo bene Altrimenti non vedo Se sto inquadrando bene O meno Allora Questo qui È quel simpatico Animalietto Tanto carino Il caducetto È un doppione Esatto Questo è già un doppione Mazzola Che fortuna Vedi quanti ce ne sono Eppure qua c'è scritto Pokémon Go, eh Mamma, non ce ne sono Anche tutti due Vabbè, basta però, eh Perché poi non c'è Questo pure è doppione Questo pure è doppione Il castoro Anche questo è doppione Il ragno Il ragno intergalattico Un doppione, mamma La Vmax è doppia Sì Parca miseria Il piccione è doppione Con i miei amici Sì, sì Te li scambi con loro Un topo Mamma, di nuovo Un topo Un piccione In In antattica In antattico In antattica? Sto trovando Ma guarda che bello Questo è l'evoluzione Di Bulbasaur Anzi, no Questa è la seconda Evoluzione Perché anzi? Vedi, fasi due Perché c'è Bulbasaur Che poi si trasforma In Ivisaur E poi ci sta questo E si trasforma In Venusaur Ivisaur Sì Ivis, quello che ti piace a te No, non è la volpetta Poi ci sta Psyco Energia Psyco Poi ci sta L'uccello pensatore Vestito da indiano Poi ci sta Il Paguro Bernardo Ah, che guarda Questa è l'evoluzione È l'evoluzione Del doppio È l'evoluzione È l'evoluzione Trovamelo 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 Quella rossa Sì, l'evoluzione Vabbè, la fase 1 Ah, questa è la fase 1 Questa è la fase È la base Ragazzi, voglio farvi vedere una cosa E poi ci sta questo qui Aspetta Si vede E poi ci sta questo qui Che è sempre doppione Che abbiamo fatto vedere Ah, le due Vmax Doppie Doppie Ahimè, sono doppie E va bene No, aprilo sotto Poi No, aprilo tu Questo pure È doppione Non è Pikachu È doppione Pure questo è doppione Che cammina Sì, ce l'ho È doppione Davvero Ah, pure questo Mi sa che è doppione Però non so se è così Ma non so se è Pikachu Che so pure c'era Però non mi ricordo Se era così Un po' argentato Basta Fede Che poi ti fa male la pancia Fede, ma qua ti ne hai mangiati? Sì Sì La caramella Basta pure tu No No, non si mangia in telecamera È male l'educazione Poi ci sta il drometario Poi ci sta questo pure qua Sto allenatore Ce l'abbiamo Doppione Poi ci sta l'uccellino L'uccellino Aspetta, aspetta un po' Questo uccellino Mi sembra che sia La base di quell'uccellino Vestito Esatto Sì È lui La fase 1 Eccolo qui Vedete Vedete Questa è la base E questa è la fase 1 Eccolo qua Poi ci sta La scimmietta rispettosa Questi sono i codici Fede Vai guarda il telefono Io spero sempre che Che vengono messi a fuoco Poi ci sta il Ma Federico Vai guarda il telefono Amore Ma fagliele vedere le carte Qual è il problema? È Il piccione Poi L'altro Codice Pure questo qua Abbiamo questa specie Di lucertola Anche questo Ragazzi Ve l'ho fatto vedere Prima Che sarebbe La base Ve l'ho fatto vedere Anche la fase 1 La scimmietta Poco fa Ve l'ho fatta vedere Questo Un ragno Un ragno pure questo qua Sempre Doppione Questo è carino Questo Dinosauro Questo è carino Questo è carino Questo dinosauro Poi Anche questo uccello A doppione Tio Santo Tutti i doppioni Mattia Poi Anche questo allenatore A doppione Questi sono i codici Questa è la scimmietta Che mi sa Che sarebbe Lascia un po' Quelle carte Queste Ah no Erano solo quelle Che hai preso Ok Questo non è un doppione Sì No Non è un doppione Però lascia L'ho Aspettate Questa è la scimmietta Cavolo Ve l'ho fatto vedere Prima Eccola Eccola qua Questa è la base Questa è la base E questa È la fase 1 Spero che Verrà messa a fuoco Ok Poi ci sta sempre Questo ragno Ragazzi C'è Una tortura Sto ragno Sto topo Che ve l'ho fatto Vedere prima Per l'ennesima volta Poi ci stava Questo Scarafaggio Scarafaggio Pikachu Sto Dragoli Komodo Sto Pacuro Bernardo Però questo È olografico Insomma È così Un po' Metallizzato Quell'altro No Pikachu È carino Quel cappellino Energia elettro Energia elettro Poi ci sta Una chiave Aaaaaaah Setta Ecco questo No Però qui c'è scritto Base Ah sì sì Base fase 1 Però aspetta 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 Dove è quel dinosauro? Dove è? Dove è? Dove è? Dove è? Trovamelo Eccolo No ragazzi Ci abbiamo La base La fase 1 E la fase 2 Ce l'abbiamo Tutte Allora Base La lucertola Che si trasforma In questo Che si trasforma In questo Lucertolone Mega gigante Vedete Base Fase 1 E fase 2 Fase 3 Fase 4 Figo E poi Basta Sì No Poi c'era Questo qui E questo qua pure Ce l'abbiamo Questo paffutello Questo paffutello rosa Adesso Oddio Togliamo queste carte Ok Adesso Apriamo Quest'altra Box Allora Vai Vai È fatto Va Vai Ti Guarda il gigante Sul premio Oddio Opralla Non c'è il codice No Non c'è nessun codice Questa È la V In piccino E questo è il fratellone Un gigantone Come potete vedere Fratellone E poi ci sta la pecorella Con tutti i sbrilluccichini Quanta è carina Tu apri Charizard Quanta è carina Poi Io apro Charizard Sì ci sto Ecco il codice Ecco il codice Stavo in mezzo alle carte Fai il codice Poi Questi ce ne avremmo tipo 314 Sì Di questi ravanelli Ravanelli Tutto spiano Poi ci sta Un Karateka Poi ci sta Una ragosta Qui oggi Siamo tutte Aragoste Sì sì Tutte aragoste Ma di nuovo No vabbè Ragazzi Stecchiappi Pure quello No vabbè Cioè Questa è proprio Una disgrazia Ve l'ho appena Fatti vedere Ritrovati Doppioni Di nuovo Un doppione Davvero Pure questo Sì Ottimo Vabbè Però Sei sicura Che questo è un doppione Io non me lo ricordo Matti Guardare Vai a guardare Perché io non me lo ricordo Io me lo ricordo Va bene I Mostri Di Pietra Poi ci sta L'altro Fantasmino Guarda Ragazzi Guardate il mio album È pieno di roba C'è Bene Poi c'è la lava Allora Quante carce Dovrò scambiare Poi ci sta Che cos'è questa Una pianta Venima Che peccato Una pianta Anche perché Quest'altra Hai trovato Due Boom Max Una V Tutte doppioni Che peccato Baba Eh vabbè Però le posso Sempre scambiare Sì esatto Energia Questa qual'era In colore In colore Bravissimo Energia in colore Una tartaruga gigante Un pinguino Ma questo qui sono io quando ho fame Aspetta amore Un pinguino Carino E ci stanno a finire I codici Poi Il pesce palla Questo è quello che ha nonna Barbara È vero Pesce palla Poi ci sta Vulpix Il zucchero filato Poi ci sta il cagnolino Che corre Poi ci sta Una scimmia Un po' maiale Poi ci sta il panda Un po' olografico Un po' Ghezzante Un po' Così La L'energia Oscurità Un Barracuta Chi è un Barracuta? Questo pesce Che noi già ce l'abbiamo Dobbiamo trovare La La base Questa è la fase 1 Noi ce l'abbiamo La base Poi ci sta L'elefante 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 Con leghette Se le leo Se le leo Poi c'è il cuoco Che cucina Non lo so Le patate lesse Mi sembrano Le patate lesse Sì Poi ci sta Un cane Attenti al lupo Attenti al lupo E poi ci sta Questo gatto nero Diffidente Vedi C'è la ragazza Che lo chiama E lui Non c'è la fila Lui va avanti Per la sua strada Oh santa pace Questa ragosta Ve l'ho fatta vedere Prima Questi pupazzi Ve l'ho fatta vedere Prima Questo di nuovo Ve l'ho fatta vedere Prima Cioè Sono le carte di prima Ragazzi Cioè Tutti i doppioni Non è possibile No no Ma tu prima Le le ho fatte vedere Le queste qua Qua le ho messe Ah ok No perché io Sono qua Il mazzetto Che avevo No no Stanno qua Stanno Poi c'è questo Ora posso Trasformare E tre carte In vostro C'è questo Un ammasso Di pietra Quest'altro pure Sono tutti ammassi Di pietra Ragazzi Non c'è più Fantasia Mi sa che questa è un po' Opaca Un po' Può essere Ok Poi ci sta Sanno un rive Questi ragazzi Stanno facendo festa Aspetta Amore Tu non devi fare Questo rumore Non devi fare Casino Tesoro Va tutto bene Stai sereno Dai Sta finendo il video Amore Stai tranquillo Poi ci sta Il Che cos'è questo Un coniglietto Delle nevi Un coniglietto Delle nevi Mi sa che aspetta Mi sa che aspetta Mi sa che metto a fuoco Vediamo un po' Mi sembra Non so ragazzi Non l'ho veduto Proprio benissimo Ok C'è il coniglietto Questo qua Delle nevi Poi c'è Quest'altro codice Poi c'è Lo scogliattolo Che ha mangiato Tanto Questo è il Ghiottone Quello sono io A pranzo Che avevo tantissimo Sì davvero Oggi a pranzo Ha mangiato così tanto Poi ci sta Il Il Gufetto C'è il gufetto Poi ci sta Un altro Come si può chiamare Quest'animale È un coniglio No È un procione Un procione Coniglio Perché la coda È da procione Poi ci sta Un pupazzo Delle nevi E poi Ci sta Il Magma Il blob Come vogliamo chiamare Questo qua Poi ci sta Il Mostra a due teste Il mostra a due teste Olografico Che è rino Metallizzato E poi Un dinosauro Sì può essere Un dinosauro Ci può stare L'energia fuoco Il mangiamusche La pianta carnivora Poi c'è un leone Poi c'è il leone Che pure questo L'avevamo Ce l'abbiamo L'avevamo fatto vedere Nei video precedenti Un fiore Un fiore tutto Illuminato A fianco Dei funghi Illuminati Questi si chiamano Funghi allucinogeni A mamma Veramente Sono pericolosi Sì io ho io Te fa certi trip Perché se li dobbiamo Che provano No Questi li abbiamo Fatti vedere Sì Sicuro No Vabbè Io ve li faccio vedere Sti codici Perché non mi ricordo Sti ammischiando Un po' tutto E Quindi Il peccato Di questo video È che ho trovato Le Vmax No Le Vmax E le V pure Doppie Le doppie però Eh vabbè Che dobbiamo fare Questo è Quando Ritorno Ritorno a scuola Mi scambio Con un mio amico Mi dà un altro Vmax Un altro V Un altro V Va bene Perfetto Quindi Con questo è tutto Iscriviti al canale Mettete un bel like Attivate la campanella Per non perdervi I prossimi video E niente Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao